Ray Kuka, della classe quinta bimeccanica, presenta il talk dal titolo Velocità e sicurezza in moto. Se provate a chiedere a un qualunque professore di fisica che cos'è la velocità, vi dirà che è il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo che si impiega per correrlo. Se invece fate la stessa domanda a un ragazzo che, come me, ha la passione per i motori, a un ragazzo che non vede la moto come un semplice pezzo di motallo, ma la vede più come un insieme di emozioni e momenti unici, provate a chiedergli cosa sia la velocità e vi dirà che è come una droga, è pura adrenalina. Ora vi voglio raccontare una mia esperienza di quando avevo 14 anni e i miei genitori non erano in casa. Andavo nel garage, accendevo la minimoto di mio fratello, mettevo il casco e, nella speranza che i miei genitori non lo venissero a sapere, andavo in giro per il paese. Un giorno, dopo il mio giro in minimoto, un mio amico mi ha chiesto perché mettevo il casco nel momento in cui guidavo una moto non targata senza avere nemmeno la patente. Beh, io principalmente lo facevo perché me lo dicevano i miei, però devo dire che già a 14 anni iniziavo a capire che il casco poteva veramente essermi utile nel caso fossi caduto e quando lo mettevo mi sentivo più sicuro. Il casco, insieme alle protezioni e un adeguato abbigliamento tecnico, in moto hanno lo scopo di diminuire le conseguenze negative causate in un incidente. Tra questi dispositivi troviamo i guanti che proteggono le mani da un eventuale impatto con l'asfalto, il paraschiena che protegge appunto la spina dorsale da eventuali traumi, gli stivali che proteggono i piedi, la caviglia, gli stinchi, la tuta intera o comunque sia il completo di giacca e pantaloni lunghi che devono essere di un materiale resistente alle abrasioni e anche agli strappi. E un altro componente molto importante che però viene utilizzato maggiormente in pista è il chest protector. Il chest protector non è altro che una placca che va sotto la tuta o comunque sia la giacca e serve a proteggere la parte del torace. Tutti questi dispositivi sono fondamentali per una sicurezza stradale, però ora mi voglio soffermarvi su quello più importante, su quello che fin da ragazzino ritengo essere il simbolo di un consapevole e sicuro divertimento in moto, ovvero il casco. Il casco, per quasi il 70% dei motociclisti coinvolti in un incidente, ha evitato o almeno ridotto le conseguenze negative alla testa e invece solamente per il 4% di loro non ha avuto nessun effetto. Noi quando guidiamo la nostra moto o il nostro motorino e andiamo a 70 km all'ora non ci sembra di andare forte, ma a questa velocità se si urta un oggetto che può essere un muro, un'auto o qualsiasi altro oggetto rigido, la forza che si genera è pari a quella generata nel cadere al suolo dal sesto piano di un palazzo. Vi sembra esagerato come esempio? Beh, devo dire che anche a me sembrava esagerato, ma ho trovato la velocità teorica con cui un corpo cade appunto al suolo dal sesto piano e vi posso assicurare che questo è l'esatto risultato. Potete capire anche da soli che questa forza è più che sufficiente per uccidere sul colpo qualsiasi motociclista, anche se equipaggiato con tutte le protezioni possibili. Io non sono qua per dirvi di non andare forte in moto, ma per dirvi che c'è modo e modo di farlo e con questo intendo indossando un casco, un adeguato abbigliamento tecnico, ma soprattutto che se vogliamo andare veloce in moto dobbiamo farlo in pista e non sulla strada, perché non sapremo mai cosa ci aspetta dietro una curva. Grazie. 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 Grazie.